Nuovo look per Piazza Guido Monaco che si colora grazie a circa 7000 fiori piantati dall'amministrazione comunale di Arezzo in collaborazione con AISA attorno alla statua. Piazza Guido Monaco è al centro dell'attenzione per svariati motivi e quindi con AISA impianti con cui stiamo condividendo questo progetto da un paio di anni abbiamo deciso di implementare le fioriture e nel caso specifico di andare a Bellino nella zona che non era mai stata oggetto di questo tipo di impianti in maniera molto imponente, molto impattante. Abbiamo visto che la popolazione ha gradito, apprezzato molto e l'anno prossimo c'è un'altra sorpresa che presenteremo a breve. AISA impianti interviene in questo progetto per tre punti fondamentali. Dare un messaggio che con la raccolta differenziata dell'organico si produce il terriccio e il compost che serve poi per la manutenzione del verde pubblico. Questa raccolta differenziata permette di ridurre i rifiuti e di liberare degli spazi impiantistici che noi possiamo mettere a servizio di comunità che questi impianti non hanno. Quindi facendo questo riusciamo ad abbassare il costo industriale che si traduce in un abbassamento di quelle che sono le tariffe della lavorazione dei rifiuti. E poi perché vogliamo far capire ai nostri cittadini che sono molto attenti nella produzione dei rifiuti, infatti Arezzo è una città virtuosa per una bassa produzione dei rifiuti, che andiamo con il nostro impianto sempre di più verso il recupero di materia, verso il recupero di materia che diventa un qualcosa dove l'incenerimento rimane sussidiario, viene dietro. Per il recupero di materia è il nostro scopo fondamentale.